Il concetto è il vertigo che mi ha rilevato di filibra è davvero oh questo è un po' è un po' è un po' che a me mi stava pensando però però il che mi sto eccozzando è io stavo subito al sensor e questo mi sto subendo la foto è un po' è un po' è un po' è un po' ma la tension di una forma dios no superficie rìgida rìgida con baia e che mi ha che mi ha che mi ha è un po'